Sabrina fu l'ultimo brano del mio primo concerto. Quando io feci il primo concerto, mi preparai per mesi, non è facile, per niente. E allora l'adrenalina, l'agitazione, le arrabbiature, faccio il concerto discretamente bene, torno a casa, scende l'adrenalina. E mo' che faccio? Nel senso, è stato un periodo un po' strano, no? Perché dicevo, è come quando tu hai il progetto, ti dai anima e corpo, realizzi il progetto, e se non ce n'hai uno successivo, è un problema. E allora ho cominciato quasi quasi a odiare, non dico, vabbè, forse è un parolone però, insomma, mi capite? Quello che facevo. Ho detto, forse, forse non mantenere una vita regolare, equilibrata, forse è meglio, pensate, no? Che fare questi picchi, perché poi, di adrenalina, perché poi, poi se non lo riesci a mantenere, è difficile. E ho detto, allora, facciamo una cosa, per sfasare questa mia situazione, creo un ultimo brano. L'ultimo. Quante volte voi nella vita avete detto, basta, lo faccio l'ultima volta e non lo faccio più? Penso tutti, no? Ecco, io, anche io quella volta, dissi, questo è l'ultimo brano, e l'ho chiamato proprio ultimo, perché ho detto, faccio questo e poi chiudo con la storia del pianoforte. Poi non è stato così, naturalmente, però, in quel momento lo era. E questo brano si chiama Ultimo. Grazie. Grazie.